Sono 11 i partner locali che hanno sottoscritto a Guilmi l'adesione a Sagittarius, il progetto europeo transnazionale per la valorizzazione di territori, prodotti tipici e turismo sostenibile, al quale aderisce l'Unione dei Nove Comuni del Sinello. Ai lavori ha partecipato l'assessore regionale all'agricoltura Mauro Febbo, il quale ha detto che Sagittarius è un progetto sul quale la regione crede e scommette perché nei piccoli centri c'è l'agricoltura di qualità. È un territorio ricco, incastonato tra mare e monti e turisticamente attraente, quello dei comuni di Guilmi, Carpinito Sinello, Carunchio, Casalanguida, Castiglione Messermarino, Celenza sul Trigno, Montazzoli, Palmoli e Torre Bruna. Prodotto tipico di Guilmi è la ventricina e a tal proposito l'assessore all'agricoltura ha sottolineato come puntare sul cosiddetto glocal significa anche confrontarsi con i mercati esteri. In Abruzzo i controlli sanitari sono rigorosi, ha assicurato Febbo, altrove meno, però il buon rapporto qualità-prezzo rimane sempre un punto di forza nonostante il confronto con nazioni che hanno costi minori di produzione. Altri partner internazionali del progetto sono la Comunità Montana dell'Alto Basento in Basilicata, Camera di Commercio e il Comune di Devin in Bulgaria, l'Istituto Nazionale per lo Sviluppo del Turismo e l'Istituto Nazionale per l'Economia della Romania, l'Istituto per lo Sviluppo della Slovenia, il Caroli Robert College d'Ungheria. Presente anche la Grecia che esprime l'Efxini Poliun Network di Autorità Elleniche e soprattutto il partner leader l'Università di Atene.